Se vincere la gara d'andata poteva sembrare un'impresa, battere la Calzedonia Verona in casa propria al Golden Set dovrebbe andare addirittura ben oltre la portata del primo atto. La Chioene Padova, vincitrice 3-2 in casa una settimana fa, accede alla finalissima dei Playoff Challenge, battendo nel derby i Cugini Scaligeri, nettamente favoriti alla vigilia. Una prova straordinaria quella della squadra di Baldovin, che nonostante l'assenza pesante dell'infortunato Randazzo, è riuscita a tenere a bada la prevedibile reazione veronese. Tanto che dopo aver concesso il primo parziale ai padroni di casa, la Chioene si è giudicata secondo e terzo set fermando sul nascere le speranze veronesi. Dopo il quarto set, vinto da Verona che poi è riuscita senza difficoltà a portare a casa anche il quinto, chiuso sul 15-5, la gara si è protratta al sesto parziale, quello da dentro o fuori. In cui la squadra di Baldovin ha strappato il 17-15 finale che le ha regalato la qualificazione alla finalissima contro Monza, che si giocherà in casa alla Chioene Arena domenica 29 aprile alle ore 18 mettendo in palio l'ultimo posto nelle coppe europee. Questa è una partita tirata, a tratti c'erano dei cai da un'altra parte, forse la stanchezza, a fine stagione si sta e alla fine siamo riusciti a spuntarla al golden set. Dobbiamo pensare alla prossima partita che sarà comunque in casa nostra perché ci siamo classificati meglio in campionato e siamo qui e la portiamo fino in fondo.